L'Emilia Romagna si aggiudica la palma di prima in Italia per l'erogazione dei LEA, livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni offerte ai cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un ticket dal Servizio Sanitario Nazionale. A certificarlo è stata la Fondazione Gimbe, l'Emilia Romagna dunque si colloca sul gradino più alto del podio con il 92,2% di addempimento, un risultato che ci spinge a fare ancora di più di con il Presidente della Regione Bonaccini, l'assessore regionale Venturi continuando a investire sul personale, già 13 mila gli assunti negli ultimi 4 anni.